Amici lettori, bentrovati! Come va? Passate bene queste brevissime vacanze di Natale? Siamo quasi a Capodanno. Bentrovati e stavolta, per concludere in bellezza, questo 2011, per la rubrica di dicembre, ho scelto un romanzo che a me sta molto a cuore, scusate il gioco di parole, perché è proprio Dracula, di Bram Stoker. E se non è Dracula una creatura della notte, pensate un po' voi. Questo romanzo che è scritto in maniera non romanzata, ma in forma di lettere, diciamo che non è proprio un romanzo, ma è appunto un insieme di lettere, di trascrizioni, di memoriali, e tutti insieme formano questa storia, di questo misterioso vampiro che dalla Transilvania si trasferisce anche a Londra e dove passa lui, niente vittime, a destra e a manca. Ecco, questo è l'originale, dove tutto è nato. Bram Stoker ha ideato questa figura del vampiro, ispirandosi a, in realtà, un fatto realmente accaduto, naturalmente che poi lui ha reso più fantasy, più horror. È esistito, in un certo senso, un personaggio come Dracula, molto sanguinario, e che ha ucciso tantissime persone. E si chiamava Vlad l'Impalatore. Esattamente Vlad III di Valacchia. E fu un vero e proprio essere spreggevole. Costui visse, siamo nel 1400, metà 1400, figlio di Vlad II Dracul, guarda caso Dracul, era noto come Vlad Tepes, o Vlad l'Impalatore. Siamo in Romania, guarda caso, e negli anni della caduta di Costantinopoli combattè a più riprese contro l'avanzata dell'impero ottomano nei Carpazzi, guarda caso, dove è ambientata la storia, dove troviamo per la prima volta il castello del conte Dracula, provocando così le ire del sultano Maometto II. Entrato in conflitto con il regno d'Ungheria, allora retto da Mattia Corvino, venne imprigionato nel 1462 dal sovrano ungherese e ritornò al potere dopo un decennio come suo vassallo. e venne ucciso in circostanze misteriose. Ma che cosa ha fatto di così terribile questo Vlad? Ve lo dico subito. Allora, dovete sapere che appunto lo strumento di tortura di Vlad era appunto l'imbalamento, ossia si prendeva un'asta appuntita e si conficcava, purtroppo, trafiggeva il condannato all'altezza dell'addome per poi sarlo in alto. La morte era veramente o immediata oppure sopraggiungeva dopo ore di agonia terribile, ma terribile. Un altro metodo di impalamento era invece di utilizzare un'asta arrotondata all'estremità, scosparsa di grasso e veniva inserita naturalmente nel retto, cioè nel sedere, e della vittima che poi veniva issata e tenuta infilzata. Il peso stesso del condannato le faceva penetrare l'asta sempre più dentro. Non continuo a descrivervi questa terribile tortura perché c'è da rabbrividire. Ecco, vi voglio segnalare a proposito, se volete approfondire la figura di questo oscuro individuo di Vlad, un interessante saggio edito dalla Mondadori che si intitola Dracula, la vera storia di Vlad III l'impalatore di Matei Kazaku. Ecco la copertina. Dracula Bene, ma torniamo al nostro Dracula. C'è da dire che questo è l'ultimo romanzo del genere gotico, oggi diremmo dark, per così dire. Il genere gotico mescolava il romanticismo all'horror, quindi è un romanticismo horror. Bene, vediamo un po' la trama di Dracula. 3 maggio Bistrizia Ho lasciato Monaco il primo maggio alle 8.35 di sera raggiungendo Vienna il giorno dopo di prima mattina. Saremmo dovuti arrivare alle 6.46 ma il treno aveva un'ora di ritardo. Budapest mi sembrava un luogo meraviglioso almeno da quanto ho potuto vedere dal treno e per quel poco che ho passeggiato per le strade. Non mi sono avventurato troppo lontano dalla stazione poiché eravamo arrivati in ritardo e quindi il treno sarebbe ripartito appena possibile. Ne ho ricevuto l'impressione che ormai stessimo lasciando l'Occidente per entrare in Oriente. Il più occidentale tra gli splendidi ponti sul Danubio che qui è di nobile ampiezza e profondità ci ha riportati alle tradizioni della dominazione turca. Siamo partiti in orario e al calar della sera abbiamo raggiunto Clausenburg. Sono sceso all'hotel Royale dove ho pernottato o pranzato meglio sarebbe dire cenato con un pollo al peperosso ottimo ma che mi ha messo una gran sete farsi dare la ricetta per mina tra virgolette. Ho chiesto al cameriere il nome della ricetta e mi ha risposto che era Paprika Handel un piatto nazionale e avrei potuto gustarlo ovunque nei Carpazzi. Ho scoperto che la mia infarinatura di tedesco mi è assai utile a dire il vero non so proprio come riuscire a cavarmela altrimenti. Ho sorriso e ha detto qualcosa a un vecchio un maniche di camicia bianca che l'aveva seguita alla porta l'uomo si è allontanato per tornare immediatamente con una lettera Amico mio benvenuto nei Carpazzi vi aspetto con ansia riposate bene questa notte domattina alle tre la diligenza partirà per Bucovina troverete un posto riservato per voi al passoborgo ci sarà da aspettarvi la mia carrozza che vi porterà fin qui spero che il viaggio da Londra sia stato buono e vi auguro un felice soggiorno nella mia bella terra il vostro amico Dracula chi scrive questo diario questa lettera è il nostro primo protagonista del romanzo che è proprio Jonathan Archer un giovanissimo avvocato londinese il quale il 3 maggio 1890 viene inviato in Transilvania quindi nei Carpazzi come lui appena detto dal suo capo viene inviato da Peter Hawkins per quale motivo perché un certo conte Dracula vuole acquistare un'abitazione a Londra e quindi ha bisogno di un avvocato londinese per il contratto ma secondo voi questo giovane avvocato ha fatto bene a recarsi proprio nel castello del conte Dracula e ne uscirà vivo da quel castello? pensateci un po' durante il viaggio l'avvocato naturalmente ascolta i pareri delle persone del luogo e si accorge che ci sono forti pregiudizi superstiziosi nei confronti di questo conte Dracula e addirittura molti quasi tutti gli dicono no non ti arrischiare ad andare lì non ci andare che cosa accade? l'avvocato incontra il conte Dracula e in quei brevi giorni di pernottamento nel castello del conte il nostro avvocato si accorge che c'è qualcosa che non va c'è qualcosa di sinistro c'è qualcosa di misterioso ed inquietante in questo castello ed inizia un po' ad esplorare le varie stanze ad un certo punto però la narrazione si interrompe la lettera del nostro amico è come si chiama? Harker si interrompe e continua con un'altra lettera di un'altra persona che si chiama Mina chi è Mina? Mina Murray ovvero siamo in Inghilterra non più in Transilvania e Mina risponde alle lettere del suo fidanzato Harker appunto quindi ci troviamo poi a Londra dove il conte si trasferirà perché si è acquistato appunto una casa a Londra e qui a Londra accadranno cose terrificanti un altro protagonista straordinario secondo me il più simpatico di tutto il romanzo è Abram Van Helsing ovvero il professor Van Helsing chi è costui? egli è il nemico in assoluto del conte Dracula l'unico in grado di riuscire a sconfiggerlo l'unico che sa i suoi punti deboli io non voglio aggiungere altro al di là del fatto anche che ormai il tempo sta per scadere a mia disposizione amici io vi voglio lasciare intanto se non l'avete letto dovete leggerlo non sarete altrimenti delle vere creature della notte questo è il capo stipide di tutti noi creature della notte noi tutti voglio lasciarvi dicendovi una cosa innanzitutto che di Dracula ufficialmente c'è stata una continuazione scritta dal pronipote di Stoker il titolo è un handid gli immortali il nome del pronipote di Stoker è Dakr Stoker quindi chi è appassionato di tutta la saga draculesca e vampiresca non può fare a meno di averlo letto o di leggerlo immediatamente se non l'ha ancora fatto un'ultima cosa che vi volevo dire è la filmografia scaturita al di là dei romanzi ma la filmografia scaturita da Dracula è sterminata quando io l'ho vista e l'ho analizzata sono rimasto impietrito hanno fatto ma un mare di film su Dracula pazzesco amici e mi sembra giusto citare i più famosi e i più belli iniziamo con il Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola oppure Dracula contro Frankenstein del 72 la figlia di Dracula del 36 il figlio di Dracula del 43 le spose di Dracula del 60 mamma Dracula dell'80 Joltan il cane di Dracula del 78 Fracchia contro Dracula dell'85 Dracula morto e contento del 95 bene amici concludo qui perché sennò continuerei a parlare all'infinito di questa straordinaria opera che per voi amanti dell'urban fantasy o soprattutto del dark fantasy è molto 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 bella da leggere alla prossima video recensione e buon capodanno ciao ciao